Brucia il territorio e il bleo, a essere andati in fiamma e entri di terreno, soprattutto quelli di fronte dentro della forestale, come la riserva naturale del fiume Arminio, una zona compresa tra Monte Russoalmo e Caramonte Gurti. Montonesino muore annegato in un pozzo per salvare i piccioni che allevava. La tragedia si è consumata davanti alla fila Tredicenne che ha chiesto aiuto in Milano incontrato a Randella, a Santa Croce Camerina. Oggi Crocette a Roma per discutere dell'emergenza rifiuti, domani conferenza di servizi per affrontare il tema del potenziamento degli impianti esistenti, incluso quello della discarica di Bello Lampo e la definizione di un piano straordinario. L'emergenza rientra a fine mese, assicura il governatore. La protezione civile scende in campo per mettere in sicurezza la spiaggia di Micenci, che ancora oggi si presenta come un cantiere aperto. Il progetto è restato approvato dall'amministrazione Susino. La renire tornerà a risplendere tra qualche giorno. Brucia il territorio ibleo. Ad essere andati in fiamma ettari di canneti, macchia mediterranea, nei terreni di competenza alcuni della protezione della forestale, altri terreni privati. Quindi le squadre dei Vigili del Fuoco e la forestale sono state impegnate per tutta la giornata, a partire da ieri in terza serata, con un intervento che si è concluso nel mezzogiorno di oggi, all'interno della riserva naturale del fiume Irminio. Allora facciamo il bilancio degli interventi in questo servizio. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate sin dalle prime ore della mattina per circoscrivere incendi che ci sono sviluppati in tutto il territorio ibleo. Ieri sera intorno alle 22.30 un incendio di vaste dimensioni nella foccia del fiume Irminio ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco e la forestale fino al mezzogiorno di oggi. Per la seconda volta in quattro giorni le fiamme hanno distrutto ettari di macchia mediterranea. Continuano gli accertamenti per verificare l'eventuale matrice dolosa dell'incendio. Domenica scorsa un primo rogo aveva già coinvolto la riserva. Vigili del Fuoco e forestale erano riusciti rapidamente a circoscrivere l'incendio e effettuare poi la bonifica di tutta l'area. In fiamme un autotreno intorno alle 14.00 sulla circonvallazione Pozzaloispica l'incendio ha avuto origine dalla cabina del mezzo e si è propagato verso il telone del camion illeso il camionista. Le cause sono accidentali. I maggiori disagi li hanno subiti gli automobilisti per l'arteria che in parte è rimasta chiusa. La polizia provinciale sul posto ha effettuato rilievi e regolato la circolazione viaria. Nel pomeriggio un vasto incendio ha interessato alla zona tra Monte Rossoalmo e Chiaramonte Gulfi in Contrada Maggi. Il terreno è interessato in parte privato in parte appartenente alla forestale. Le operazioni di spegnimento sono iniziate alle 16.00. Altre squadre dei vigi del fuoco sono poi state dirottate per un altro incendio di canneta e sterpaglia a Marina di Marza. Nel resto del territorio ibleo si sono registrati altri piccoli focolai che sono stati domati in poche ore. C'è ancora la cronaca. È stato rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Ragusa un cadavere in un pozzo incontrato a Randello, a Santa Croce e Camerina. Ed è stato possibile ricostruire i fatti grazie alle dichiarazioni della figlia, tre di cenne, che è testimone oculare della tragedia. Morto per imprudenza e davanti alla figlia tre di cenne, che sotto shock ha chiamato il 118, un bracciante agricolo tunisiro di 48 anni, Balza Balmoez, da anni residente in Italia con la famiglia, è caduto in un pozzo annegando per recuperare alcuni piccioni che allevava per conto di un'azienda private. Il corpo è stato recuperato intorno alle 22 a incontro da Randello a Santa Croce e Camerina. È stata la minorena ad aver raccontato ai carabinieri della compagnia di Ragusa quanto successo. L'uomo aveva notato che all'interno di un pozzo erano andati alcuni piccioni che lo allevava. Volendo recuperarli, ha preso una corda, l'ha fissata e si è calato nel pozzo, ma ha perso l'appoggio di un piede ed è piombato in fondo al pozzo, tra i tubi metallici per l'acqua, facendo un volo di circa 5 metri. Il tunisino agonizzante ha avuto la lucidità di chiedere aiuto, gridando alla tradicenne di chiamare il 118, ma nel frattempo per le gravi ferite riportate è sopraggiunto il decesso. Traumi al torace e alla testa, ha constatato il medico legale. Il sostituto procuratore Francesco Ricci, dopo l'ispezione cadaverica, ha disposto la restituzione dell'assalma ai familiari per le sequie. Sono 628 i migranti arrivati questa mattina al porto di Pozzallo. Stanno tutti bene, sono sei le donne in gravidanza che sono state ricoverate nell'ospedale di Modica Ragusa e Vittoria. Intanto viaggia verso la Sicilia la nave Aquarius di Medici Senza Frontiere, con a bordo 22 cadaveri. Domani dovrebbe arrivare nel porto di Trapani. Non si fermano gli sbarchi lungo le coste Iblei. L'arrivo di migranti è costante, favorito anche dalle ottime condizioni meteomarine di questi giorni. Sono 628 gli extracomunitari approdati alle 8 di questa mattina al porto di Pozzallo. Sono stati salvati dalla nave Barbun Argos di Medici Senza Frontiere, che li ha avvistati e soccorsi a largo delle coste libiche su alcuni gommoni in difficoltà. Al momento stanno tutti bene, sono stati visitati dai medici del primo intervento, che insieme alla protezione civile, alla Croce Rossa e volontari dell'Associazione Misericordia, li hanno rifucillati e forniti dei beni di prima necessità. Circa 100 le donne di cui si è in stato di gravidanza e ricoverata è negli ospedali di Modica Ragusa e Vittoria, 13 minori tutti accompagnati. Le operazioni di sbarco sono terminate nella tarda mattinata di oggi. Almeno 300 degli immigrati sbarcati questa mattina saranno trasferiti in altre strutture. La task force delle forze dell'ordine è già in movimento per risalire ed arrestare i presunti scafisti di questo sbarco. Intanto un'altra strage di migranti è avvenuta a largo della Sicilia. Sono 22 cadaveri recuperati dalla nave Aquarius di Medici Senza Frontiere, tra le vittime 21 donne ed un uomo. La nave che ha anche soccorso 209 migranti è in navigazione verso la Sicilia, come spiegano dall'organizzazione umanitaria, e dovrebbe arrivare domani nel porto di Trapani. Questa mattina sbarco a Catania con 841 immigrati arrivati al porto. Solo nella giornata di ieri sono stati oltre 2.000 gli extracomunitari sbarcati in diversi porti della Sicilia. La squadra mobile di Ragusa ha catturato uno scafista minorenne, un senegalese di 16 anni, che dopo essere stato collocato in una comunità ha violato ogni disposizione del giudice ed è stato ristretto al carcere minorile. La squadra mobile di Ragusa aveva arrestato il minore lo scorso gennaio perché è accusato di avere condotto un gommone carico di migranti, ma invece di essere stato ristretto in carcere è stato collocato in un centro di permanenza per minori di Catania. Il 16enne aveva iniziato un programma di recupero e ha anche iniziato a violare per ogni norma all'imposta dalla comunità. Pertanto il senegalese è stato ristretto nell'istituto penale minorile di Catania. C'è ancora la cronaca con la polizia di Stato che ha denunciato per calugna, simulazione di reato e procurato allarme un vittoriesi di 44 anni che per paura del cognato ha chiamato il 113 riferendo di essere in fin di vita perché è pugnalato dalla moglie. Vediamo. Aiuto, mia moglie mi ha coltellato alla schiena, perdo sangue, sento freddo e sono stanco. Per favore aiutatemi, lei è scappata, io sto per morire. E questo è il contenuto della ghiacciante richiesta d'aiuto di un vittoriesi di 44 anni che ha chiamato intorno alle 18 di ieri la polizia di Stato. Il caso si era presentato come un tentato omicidio, ma in realtà era un blef. In collegamento telefonico, l'uomo agonizzante ha raccontato di essere stato ferito dalla moglie, ma quando 10 poliziotti, pronti a fare scattare l'arresto, sono arrivati nell'abitazione, hanno denunciato l'uomo per calugna, simulazione di reato e procurato allarme. Aveva pianificato la messa in scena perché dopo un litigio con la moglie, lei aveva raccontato i fatti al fratello. Il 44enne, avendo paura della reazione del cognato, si è finto quasi morto, accusando la coniuge. Lei è arrivata a casa, ha trovato i poliziotti ed è rimasta senza parole, egnara della chiamata di soccorso del marito, che si era ferito invece alla mano dopo aver infranto durante il litigio un vetro. Nessuna ha coltellato la schiena, come lo ha raccontato al telefono all'operatore, facendo mobilitare auto di polizia e ambulanze. Mi ha dato 4 o 5 fendenti, aiutatemi, perdo sangue. Sono state le uniche indicazioni date dalla presunta vittima all'operatore di polizia. Non è riuscita neanche a indicare la via di casa. È stato allertato il 118, che senza un indirizzo esatto non ha fatto partire l'ambulanza, mentre dall'altro capo del telefono, il 44enne, ha detto di sentire freddo, sintomatologia delle emorragie, di avere sonno. Nel frattempo l'operatore lo ha tenuto sveglio e dato dei consigli per tamponare la perdita di sangue. Il vittoriese, per far intendere che le sue condizioni stavano peggiorando, ha fatto cadere il telefono a terra e per sei minuti la conversazione è rimasta aperta, mentre l'operatore sentiva il vittorese rantolare, tanto da sollecitare nuovamente le pattuglie ad affrettarsi per l'imminente pericolo di vita. Trovata l'abitazione, i dieci polizietti accorsi si sono accorti che si trattava di una farsa ed è stata la moglie del 44enne a fare luce sui fatti. Ora l'uomo deve rispondere di calugna, stimolazione di reato e procurata allarme. La procura di Ragusa ha disposto l'ordine di carcerazione nei confronti di un modicano di 37 anni, Cristian Ferreri, che ieri pomeriggio è stato arrestato dalla polizia di Modica e trasferito nel carcere di Ragusa, dove deve scontare la pena di sei mesi di reclusione. I fatti si riferiscono al febbraio del 2007, quando Ferreri truffò dei correntisti online sottraendo del denaro dai loro conti correnti. Superata la fase della grande emergenza rifiuti, si cerca di rientrare alla normalità. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, ha emanato la nuova ordinanza per autorizzare l'impianto di stabilizzazione assiculare e anche per stabilire quantitativi di conferimento nelle discariche dei vari comuni. Intanto il report della Commissione Eco-Mafie boccia su tutta la linea la gestione dei rifiuti in Sicilia. Sentiamo Carmela Minardo. Una nuova ordinanza per riassegnare i quantitativi di rifiuti che i comuni potranno conferire nelle discariche quotidianamente e autorizzare l'impianto di biostabilizzazione di Siculiana. In questo modo il presidente della regione, Rosario Crocetta, intende affrontare la fase del dopo emergenza rifiuti in Sicilia. Proprio per predisporre un piano di monitoraggio alla luce dei nuovi quantitativi, la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ato tornerà domani a riunirsi a Ragusa. L'idea è di verificare settimanalmente se le nuove disposizioni bastano per far rientrare dall'emergenza tutti i comuni blei. L'ordinaria amministrazione è ancora lontana. L'impianto di biostabilizzazione nel sito della discarica di Siculiana, necessario per riaprirla così come previsto dalle normative europee, sarà operativo a partire dal 1 agosto. Da quella data sarà possibile conferire presso la discarica 250 tonnellate di rifiuto che contribuiranno ad alleviare la situazione di disagio dei comuni dell'Agrigentino. Il presidente Crocetta e l'assessore Contrafatto hanno inoltre provveduto ad autorizzare in via definitiva le piante organiche delle SRR di Palermo Est, Palermo Ovest, Trapane Sud ed Agrigento. Le piante organiche saranno successivamente approvate nel corso della prossima riunione di giunta, prevista per mercoledì prossimo. E intanto una batosta sulla gestione rifiuti in Sicilia arriva dalla Commissione Comafia, che nel suo report afferma che l'intero sistema non funzionare. L'attività di indagine parlamentare, durata circa un anno, racconta la criticità del sistema, in cui sono presenti anche infiltrazioni di criminalità organizzata attraverso il controllo degli appalti e delle attività accessorie come il trasporto, il servizio di manutenzione dei mezzi, lo smaltimento dei rifiuti, nonché la fornitura dei mezzi stessi. L'organismo denuncia l'assegnazione di incarichi effettuati senza tener conto delle competenze e professionalità sulla base di logiche evidentemente strane al buon andamento della pubblica amministrazione. Sarà attivo da domani l'impianto di biostabilizzazione della discarica di Gela in anticipo rispetto alle previsioni. L'attivazione consentirà ai comuni della provincia di Caltanissetta di conferire i rifiuti in discarica. Lo ha detto il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta che ha incontrato a Roma il ministro all'ambiente Gianluca Galletti insieme con l'assessore regionale dell'energia Vania Contrafatto e il dirigente del Dipartimento Maurizio Pirillo per discutere dell'emergenza rifiuti in tutta l'isola. Per domani aggiunge Crocetta è stata indetta una conferenza di servizi per affrontare il tema del potenziamento degli impianti esistenti incluso quello della discarica di Bellolampo e la definizione di un piano straordinario. Mettere a punto la più efficace azione per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del randagismo sarebbe discusso questa mattina in prefettura tra tutte le componenti istituzionali della provincia di Ragusa. Allora sentiamo cosa è emerso. Cucciolate non desiderate ed abbandoni Questo è il comune denominatore che alimenta il fenomeno del randagismo e che potrebbe essere combattuto con la sterilizzazione dell'animale. La legge impone quella del cane randagio ma non obbliga i padroni a sterilizzare i propri animali domestici. Di randagismo in provincia di Ragusa si è parlato tanto ma ancora non sono state trovate soluzioni ad un fenomeno che ha portato anche ad eventi tragici. Nel territorio ebleo tra l'altro solo il comune di Ragusa è il canile comunale mentre gli altri enti si affidano alle strutture private. Proprio per mettere a punto la più efficace azione per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del randagismo la prefettura ha convocato stamani tutti i rappresentanti istituzionali del territorio. Bisogna mantenere alta l'attenzione per evitare che si ripetano episodi che nel passato sono stati anche con essiti tragici. Quindi è un obiettivo quello di far sì che le amministrazioni comunali competenti in materia con gli altri organismi, l'ASP, fare il punto sulla situazione è sempre una cosa che acquista rilievo. Per i veterinari dell'ASP 7 di Ragusa basterebbe una corretta campagna di sterilizzazione per ridurre drasticamente gli abbandoni e la proliferazione dei randagi sul territorio. È solo attraverso la sterilizzazione dei cani di proprietà che si può prevenire l'abbandono soprattutto dei cani di proprietà di quei proprietari, di quelle utenze diciamo che sono meno sensibili ad un'adozione responsabile del cane. Lì bisogna fare un intervento pressante e bisogna investire delle risorse anche se i comuni dicono e ha ragione che le risorse mancano, scarseggiano. Ma a mio giudizio scarseggiano soprattutto perché vanno a finire nei canili per la detenzione di cani di randaggi catturati senza che si faccia però una vera e propria opera di prevenzione sul fenomeno. Il randagismo ne abbiamo anche parlato con l'OIPA, l'Organizzazione Italiana Protezione Animali di Ragusa che promuove costantemente una campagna di sensibilizzazione per l'adozione e la sterilizzazione dei cani quali ottimo antitodo contro il fenomeno dei branchi. Marco Scavino. Il fenomeno del randagismo potrebbe essere incisivamente arginato o addirittura debellato se noi applicassimo un po' più di senso civico nella nostra vita. Quella che vedete è India, una tra le cagnoline più famose della provincia di Ragusa. La sua storia ha fatto il giro dei giornali, non per le sue caratteristiche, non ha vinto alcun concorso di bellezza. India è una dei tanti amici a quattro zampe vittima della cattiveria degli uomini. Le hanno legato le zampe e l'hanno buttata in un dirupo, tanto che per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Modica. Ora India si trova al rifugio sanitario della città dove un gruppo di volontari le ha dato un nome e una nuova speranza. Sono centinaia i cani disseminati sul nostro territorio che vivono in libertà. Molti vengono abbandonati, si uniscono ad altri simili e formano branchi. Sì, proprio quelli di cui abbiamo paura. In molti casi sono innocui, ma in altri sono davvero pericolosi. Cosa fare? Ne abbiamo parlato con un gruppo di attivisti che ogni giorno combatte in silenzio e con modestia il fenomeno del randaggismo e tenta, con tutte le proprie forze, di donare una nuova casa ai tanti cani che vengono tolti dalla strada. L'unico metodo per cercare di fermare appunto il fenomeno del randaggismo è sterilizzare i cani e smetterla di pensare che sia contro natura perché nemmeno trovare i cani nell'immondizia o abbandonare i cani per strada come lei legata alle zampe dietro nemmeno quello è naturale. Quindi intanto sterilizzare, poi smetterla di girarsi dall'altra parte quando si vede un cane per strada. Bisogna fermarsi, segnalare, chiamare la polizia municipale e pretendere l'intervento. La polizia municipale è obbligata per legge. Nella nostra provincia i comuni hanno lasciato correre il problema del randaggismo. Molti cani randagi si sono riprodotti, si sono anche inselvati i chiti e continuano a riprodurre. Quelli che vedete in queste immagini sono vittime di torture, malnutrizione e abbandono. Un fenomeno molto diffuso e che nell'ultimo periodo viene denunciato sui social attraverso la condivisione di post. Per contattare i volontari del rifugio, per prendere delle informazioni su come e cosa fare quando si trova un cane per strada smarrito e disorientato e quindi con ogni probabilità abbandonato, visitate le pagine Facebook dell'OIP a Ragusa o quelle dei rifugi sanitari di Modica e di Ragusa. Nel territorio Ibleo sono tre le strutture a lavorare per la tutela degli amici a quattro zampe e si trovano a Modica, Ragusa e Vittoria. Chissà, magari visitando le strutture oppure solamente la pagina Facebook troverete il vostro amico a quattro zampe. Il mio invito va ovviamente a tutti i cittadini a non acquistare i cani ma ad adottarli dai tre canili comunali che sono Vittoria, Ragusa e Comiso dove in alcuni di questi comuni addirittura c'è un beneficio fiscale. Cioè addirittura i comuni danno un beneficio su quelle che sono le tasse. Il Comune di Scicli ha espresso parere contrario al progetto di ricerca di idrocarburi denominato rilevo geofisico 3D Scicli presentato dall'Irminio ma la risposta della società smonta la relazione dell'ente nella quale punto per punto vengono indicati i punti critici che hanno poi indotto a dare parere sfavorevole. Vediamo nei dettagli il servizio. Il Comune di Scicli ha espresso parere negativo al progetto denominato rilevo geofisico 3D Scicli proposto dalla società Erminio SRL. Il motivo, secondo la relazione del capo settore l'ingegnere Guglielmo Carbone l'ispezione ricade su zona vincolata per le attività in progetto e non sono indicati nel dettaglio quali saranno i punti di rilievo né tanto meno la viabilità interessata dal flusso dei camion utilizzati per svolgere tali attività. Il progetto si legge nella relazione del Comune oltre ai centri abitati di Scicli Dona Lucata, Cava d'Aliga e San Pieri ingloba al suo interno un paesaggio d'alta valenza naturalistica paesaggistica, archeologica, architettonica disseminato da puntuali emergenze già tutelate. Quindi, per il Comune, il parere è negativo ma non vincolante perché il progetto ricade nel centro abitato del Comune di Scicli e interessa un numero rilevante di vincoli ambientali paesaggistici e perché non sono indicati nel dettaglio quali saranno i punti di rilievo dell'attività di ricerca. I punti critici sollevati dal lente erano già stati oggetto di chiarimento da parte della società che era intervenuta per bocca dell'amministratore delegato Antonio Pica il quale ha precisato che i lavori previsti nel permesso di ricerca Scicli qualora fossero autorizzati sono esclusivamente tesi ad acquisire informazioni sui dati geologici del terreno senza alcuna azione invasiva per il territorio. Non sarebbe mai possibile realizzare attività di ricerca di drogarburi nei paesi del centro abitato sia per motivi giuridici che per motivi tecnici e in secondo luogo le attività per cui è stata richiesta un'autorizzazione al Ministero dell'Ambiente e del territorio del mare riguardano esclusivamente delle ricerche per poter eseguire una linea di acquisizione e riflessione. Nel caso specifico di Scicli l'acquisizione dei dati non sarà realizzata all'interno dei siti SIC i siti di interesse comunitario e sulle zone di protezione speciale quindi in vicinanza di vincoli architettonici e archeologici né in prossimità di centri abitati néppure in vicinanza di corsi d'acqua laghi e sorgenti. Un rilievo simile a quell'oggi oggetto di richiesta nel Ministero dell'Ambiente per il permesso di ricerca Scicli fu eseguito da Ermino SRL già nel 2006 e interessò l'area a valle del fiume Ermino fino all'ambire la periferia ovest della città di Scicli. In tal occasione non si verificarono danni di alcun genere e la fase acquisitiva passò completamente inosservata le popolazioni ha osservato PICA perché è praticamente non percepibile. La società ha dato una risposta ai punti critici dunque sollevati dal comune di Scicli che rendono in perplessità. Il chiarimento dell'amministratore delegato potrebbe porre dei dubbi invece sulla validità della relazione del comune e sulle motivazioni che hanno indotto ad esprimere parere negativo. Ci fermiamo per una breve pausa torniamo tra poco. Ancora ben trovati in studio e mentre i lavori sulla spiaggia di Micenci a Donna Lucata proseguono ieri abbiamo incontrato la protezione civile per farci spiegare con carte alla mano in cosa consisterà questo intervento. Vediamo. La spiaggia di Micenci è tuttora oggetto di interventi per porre in sicurezza l'area e garantire e salvaguardare l'incolumità pubblica un progetto che è stato promosso dal comune di Cicli con l'allora sindaco Susino e il cui incarico fu affidato alla protezione civile di Ragusa. Ma nello specifico cosa si sta realizzando a Donna Lucata? È stato infisso proprio stamattina un tubo in cemento che ha opportunamente forato per favorire il drenaggio proprio sulla bocca della sorgente. Metteremo uno strato di pietrame quello che si vede sulla spiaggia sono dei massi da centinaia di chili che favoriranno il drenaggio della sorgente aumentando le pressioni insomma riducendo la sezione aumenteranno la velocità di deflusso dell'acqua è sempre e questa è una condizione privilegiata per l'acqua in questa zona in questa zona il pietrame sarà più piccolo e già inizierà a creare qualche ostacolo in questa zona il pietrame sarà minuto e l'acqua noi a modo di vulcano la convoglieremo verso questo cratere il cratere sarà protetto ovviamente da una griglia sulla sommità del tubo e da un'altra disposizione di massi grandi due in una direzione due nell'altra in maniera da evitare qualsiasi possibile incidente affioreranno a regime se il piano di campagna rimane quello che conosciamo adesso affioreranno una ventina di centimetri e trenta di roccia di questi massi che peseranno quintali su due trecento chili quindi assolutamente inamovibili con mezzi ordinari e affioreranno questi da cui scorrerà un rivoletto d'acqua che andrà via via verso il mare ricorre oggi l'anniversario della morte del capo della mobile di Palermo funzionario della polizia di stato Boris Giorgio Giuliano che è stato assassinato il 21 luglio del 1979 a Palermo per mano di Cosa Nostra fu uccisa da Leo Luca Bagarella con sette colpi di pistola alle spalle perché aveva iniziato con altri funzionari dello Stato una dura lotta contro Cosa Nostra ora vediamo la commemorazione di oggi a Palermo mio padre mio padre Boris Giuliano era uno che era vicino agli ultimi senza essere un sacerdote Alessandro Giuliano figlio dell'ex capo della squadra mobile di Palermo ricorda così quel padre eroe della lotta alla mafia strappato gli via all'età di 12 anni Giorgio Boris Giuliano venne assassinato il 21 luglio del 1979 mentre pagava il caffè appena bevuto al Bar Lux di Via di Blasi dal fedele a Cosa Nostra Leo Luca Bagarella che gli sparò sette colpi di pistola colpendolo alle spalle fu uno dei primi investigatori a capire che la Sicilia negli anni 70 era diventata una tappa centrale per il traffico internazionale della droga controllato dalla mafia qui l'oppio veniva trasformato in eroina prima di essere venduto altrove nel giugno dello stesso anno all'aeroporto di Palermo arrivarono due valigie da New York con 500 mila dollari in contanti il prezzo di una partita di eroina pagato alle famiglie mafiose siciliane da quelle statunitensi contemporaneamente a questa operazione l'8 luglio il capo della squadra mobile e i suoi agenti fermarono i due mafiosi Antonino Marchese e Antonino Gioè nelle cui tasche trovarono l'indirizzo di un covo contenente armi droga foto che ritraevano i boss corleonesi e gli effetti personali di Leo Luca Bagarella cognato di Salvatore Rina in quelle settimane iniziarono ad arrivare telefonate anonime al centralino della questura che minacciavano Giuliano di morte Bagarella fu condannato nel 1995 all'ergastolo come esecutore dell'omicidio insieme ai boss Salvatore Rina Bernardo Provenzano Michele Greco Francesco Madonia Giuseppe Calò Bernardo Brusca Nenè Geraci e Francesco Spadaro ritenuti i mandanti del delitto presentata questa mattina in conferenza stampa l'attività che Ryanair porterà all'aeroporto Fontana Rossa di Catania vediamo un investimento da 100 milioni di dollari da Ryanair all'aeroporto di Catania investimenti che serviranno per un nuovo aeromobile di base a Fontana Rossa e 5 nuove rotte per Berlino Malta Milano Malpensa Perugia e Trieste oltre ad un nuovo collegamento invernale per Pisa e voli aggiuntivi per Eindhoven sono queste le novità presentate nel corso di una conferenza stampa congiunta SAC SPA e Ryanair presso lo scalo catanese erano presenti tra gli altri il sindaco metropolitano di Catania Enzo Bianco Salvatore Bonura presidente di SAC SPA e vertici della compagnia aerea sono in tutto 13 le nuove rotte che faranno volare 2,6 milioni di passeggeri l'anno da e per l'aeroporto di Catania l'investimento di Ryanair servirà a migliorare ulteriormente le performance di traffico a Fontana Rossa ha detto il presidente di SAC Salvatore Bonura solo nei primi sei mesi del 2016 i passeggeri nello scalo etneo sono cresciuti del 6,4% mentre il mese di giugno si è concluso con un più 10,5% rispetto al 2015 cresce la presenza di straniere e con essa anche l'aspetto economico per le imprese del territorio siciliano massima disponibilità di collaborazione con Ryanair ha aggiunto in conferenza stampa il sindaco Enzo Bianco nella speranza che possa fare di Catania la sua base principale nel sud per quanto riguarda Ryanair Kenny Jacobs responsabile marketing della compagnia irlandese ha detto che c'è l'intenzione di aggiungere un terzo radiomobile portando l'investimento a 300 milioni di dollari mentre continua la forte crescita negli aeroporti principali come Catania Milano e Roma inoltre ha aggiunto Jacobs abbiamo accolto favorevolmente le dichiarazioni rilasciate nel weekend dal ministro del Rio circa la possibilità di eliminare da settembre l'aumento della tassa municipale di 2,50 euro novità che è in attesa di una conferma ufficiale per Gaetano Mancini amministratore delegato SAC questa scelta di Ryanair conferma le potenzialità dello scalo di Catania e i rapporti costruttivi che si sono creati in questi anni tra la società e la compagnia e Volotea la compagnia aerea Laucost che collega città di medie piccole dimensioni in Europa ha confermato per domani la ripartenza dei collegamenti da Palermo verso Palma di Mallorca mentre in calendario per giovedì prossimo il ripristino dei voli alla volta di Ibiza diventa così completo l'operativo voli del vettore di Palermo che per l'estate garantisce collegamenti verso 17 destinazioni 7 in Italia 5 in Francia 3 in Grecia 2 in Spagna e Volotea riconferma anche per la stagione invernale le rotte in partenza da Palermo già disponibile il calendario voli per il programma dello scalo siciliano per decolare da Palermo verso Bari Genova Napoli Torino Verona e Venezia con questa notizia chiudiamo l'edizione serale di METG grazie ancora per averci seguiti e buon proseguimento grazie a tutti 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 Grazie a tutti.